Buongiorno da Cucina Bievolutiva, in questo video vi presentiamo le slide che Cucina Bievolutiva ha presentato il 26 marzo presso la sede AVA di Roma, in occasione della conferenza dedicata al tema delle corrette combinazioni alimentari. Nella parte finale abbiamo riportato esempi che si riferiscono alla cucina convenzionale affinché possano essere d'aiuto a chiunque, quindi anche a chi ancora non conosce l'esistenza delle alternative vegan. Ricordiamo che le proteine vegetali ai fini delle corrette combinazioni sono valutabili alla stessa stregua di quelle animali. Ricordiamo anche che nella cucina cotta, sia che si tratti di cucina convenzionale, sia che si tratti di cucina vegan, l'attenzione alle corrette combinazioni è maggiormente auspicabile rispetto alla dieta crudista. Il cibo crudo per sua stessa natura è infatti a priori più digeribile di quello cotto, quindi l'attenzione alle corrette combinazioni si attenua notevolmente nella quotidianità, se non per le combinazioni della frutta che andrebbero in ogni caso osservati da tutti. Nella cucina vegan crudista l'igienismo prende maggiore spazio in prossimità di un detox per preparare meglio l'organismo e subito dopo con la ripresa dei cibi solidi prima di tornare all'alimentazione consueta. Le slide sono scaricabili in formato pdf dal nostro sito www.cucinabioevolutiva.com e ora buona lettura!